...fanno qualche lavoretto in casa, una roba di un minuto, seguire una ragazza... ...che ne va, prende gli auto, non si muore, sì, quindi sicuramente stai insegnando... Arianna è sempre ai fornelli e lei la cuoca della casa, Cristina la manieca dell'ordine, Maria Benedetta, detta Benji, è la più esperta, prima ad aver iniziato questo percorso di fiducia con la Ollus, poi c'è Lina che fa sempre gli onori di casa. Adesso io faccio formaggio fuso con i pane, visto che... Quattro ragazze con disabilità diverse, come fossero una squadra, o meglio, una famiglia affiatata, giorno e notte vivono insieme e soprattutto da sole. Ho avuto questa idea, attraverso il teatro, di arrivare a questi discorsi di autonomia. Siete degli incoscienti in realtà? Forse sì, siamo anche dei sognatori, perché speriamo di creare qualcosa di interessante che ancora non c'è. Dal teatro alla vita recitano per insegnare ai ragazzi delle scuole che loro possono farcela per alcune ore, anche il soggiorno diventa un'aula per raccontarsi. Muoversi alla cultura. Basta, posso andare a fare pipì? Ma dai! Ma che schifo! Eh, va bene! Non ci dite un'idea! Al presidente Tondo spiegano commosse com'è la loro vita e scherzano. Dina, sono stata bene qui con voi? Ma va a parte qua. Non fare l'ago se non piango anche me. No, 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 te prego, ben in giro. Sono acquisito delle abilità straordinarie che possono portare fuori dal far la spesa, dal farsi da mangiare, da cucinare da solo. Se pensiamo che queste ragazze qui dormono da sole, nel senso che la sera vengono lasciate comunque in assoluta libertà e da più di un anno si autogestiscono, beh, credo che è veramente un bel passo avanti. Il fatto di essere diventati d'aiuto per altre persone, no, e preparare i panini per il senza tetto, no, attraverso la collaborazione con Sant'Egidio è una cosa importantissima. Loro sanno e capiscono che danno una mano a qualcun altro. In quartiere le conoscono tutti, escono a fare la spesa, scambiano due chiacchiere, i vicini bussano per domandare se è tutto ok. Possono costruire lentamente e con calma la propria vita futura, ecco, anche senza le proprie famiglie. È un modello che appunto non mi era stato ancora rappresentato ma penso che debba essere assolutamente sostenuto.